Ricorderete che seguendo l'andamento del vostro libro di testo abbiamo programmato di suddividere l'area italiana e il romanico italiano in quattro macro aree e tendenzialmente il romanico lombardo e il romanico emiliano si mettono nella stessa posizione, si mettono insieme perché effettivamente hanno caratteristiche simili, caratteristiche che ne fanno una sola identità. Noi in questo caso per comodità abbiamo parlato precedentemente del romanico lombardo, ora parleremo del romanico emiliano ma possiamo considerare, appunto possiamo parlare e nei testi di storia dell'architettura generalmente si parla di romanico lombardo emiliano, quindi di una cosa diciamo che in qualche modo ha caratteristiche che accomunano entrambi i mondi costruttivi. In questo caso ci troviamo a Parma, vediamo per esempio che la facciata è una facciata, una semplice facciata a capanna esattamente come avevamo trovato nel San Michele a Pavia, quindi diciamo la somiglianza anche nell'uso dei materiali, nei colori caldi è abbastanza evidente. In questa grande ricchezza di gallerie e loggiati che scandiscono e suddividono il prospetto frontale diciamo della chiesa più in modo orizzontale che non in modo verticale sono caratteristiche appunto che abbiamo ritrovato anche in Lombardia e in particolare appunto a Pavia. Nel caso di Parma abbiamo una caratteristica che poi ritroveremo per esempio a Pisa del fatto che non si tratta di un cantiere, del cantiere di un unico edificio che è la basilica ma di un cantiere che comprende la basilica, il campanile, il battistero, quindi diciamo un complesso di edifici che costituiscono anche urbanisticamente l'immagine della piazza principale della città, in questo caso appunto di Parma. Se torniamo a guardare il prospetto della facciata a capanna ci rendiamo conto appunto che c'è una forte scansione orizzontale per linee orizzontali, che queste grandi aperture, queste gallerie, danno un forte senso di chiaroscuro e che il portale ha fatto a protiro, a doppia agricola, è stato aggiunto successivamente, si vede che è un corpo estraneo, tanto che parte diciamo della galleria, la parte appunto che sta subito dentro all'edicola alta del protiro è stata tamponata successivamente. Per quello che riguarda il campanile non possiamo non notare le forme abbastanza possenti, tipiche del romano colombardo emiliano, le grandi specchiature, i coronamenti ad archetti pensili, per quanto attiene al battistero, notiamo anche qui caratteristiche che abbiamo già trovato, cioè il fatto che la pianta sia una pianta ottagonale, una pianta centrale, le forti strombature dei portali, i coronamenti che sono stati queste torrette che sono state aggiunte in un secondo tempo, che sono in qualche modo incongrui rispetto al resto della struttura. Trovandoci però in Emilia, per concludere il nostro ragionamento sull'architettura lombardo-emiliana, prendiamo l'immagine fondamentale, diciamo l'immagine iconica, vera e propria dell'architettura emiliana che è appunto la cattedrale di Modena, un edificio che è stato studiato in maniera molto ampia, anche a livello iconografico, un edificio che ha una caratteristica fondamentale e abbastanza unica nel panorama italiano, ma direi anche europeo. Conosciamo in questo caso sia il nome dell'architetto Lanfranco, architetto lombardo, probabilmente comasco, quindi un maestro comascino, e il nome di Virigelmo, che invece fu lo scultore che si occupò, diciamo così, della decorazione plastica non meno importante, quindi delle sculture che poi studieremo con dovizia di particolari e che vediamo in questi quattro pannelli che vedete appunto sulla facciata del Duomo di Modena. Duomo di Modena che ha un'altra caratteristica un po' particolare, che sta nella sua struttura, diciamo che la sensazione, soprattutto guardando all'interno poi vedremo dei particolari, è che l'edificio sia stato costruito per essere un edificio molto ricco e che nel corso del tempo questa ricchezza sia andata scemando, per cui l'architetto sia stato costretto a limitare le spese e quindi abbiamo un edificio che ha una muratura assolutamente possente e importante, con un'alternanza, come vedete, in pianta di filastri a fascio e colonne, con queste quattro grandi campate centrali che stanno in rapporto di uno a due rispetto alle campate laterali, quindi anche questa è una cosa che abbiamo già riscontrato come una tipicità, diciamo così, della pianta romanica italiana, in particolare lombarda ed emiliana. Quello che è caratteristico è che a fronte di queste grandi murature che ci farebbero pensare ad una copertura lapidea, diciamo, o comunque una copertura in muratura, invece noi sappiamo che la copertura iniziale originaria era una copertura a capriate linee, quindi una copertura molto leggera. Oggi noi vediamo comunque delle volte a crociera, volte a crociera che però furono aggiunte nel Quattrocento, anche questo è molto interessante perché nel Quattrocento, nel momento in cui si decise di togliere la copertura a linee aggiungere queste volte a crociera, gli architetti non si fecero nessun problema e aggiunsero queste grandi volte senza bisogno di rinforzare la muratura, perché la muratura di Lanfranco, la muratura originaria, sarebbe comunque stata in grado di assorbire il peso. Quindi questo ci dice in maniera abbastanza chiara che sicuramente, inizialmente, diciamo così Lanfranco aveva immaginato una copertura molto più possente. Se guardiamo la facciata di questo edificio, anche qui possiamo riscontrare una serie di caratteristiche che sono tipiche del Romanico in generale, l'abbiamo già detto, potremmo utilizzare la cattedrale di Modena quasi come un modello per alcuni degli elementi più tipici del Romanico. Abbiamo queste forti paraste che suddividono questa facciata a spioventi, quindi diciamo la navata centrale, la parte che corrisponde alla navata centrale con il grande rosone che fu aggiunto in un secondo tempo e suddiviso da queste due grandi paraste rispetto alle due navate laterali, facciata che è suddivisa sia verticalmente che orizzontalmente, quindi verticalmente da queste paraste, dalle resene che scandiscono, come vedete, le archeggiature e orizzontalmente invece da questa forte e profonda galleria percorribile in facciata, una chiesa che prevedeva inizialmente un solo ingresso con un protiro a doppia edicola che vediamo ancora oggi e che successivamente vide l'apertura dei due portali laterali e contestualmente lo spostamento dei due pannelli, diciamo, plastici decorati dal villigelmo che vengono spostati appunto sopra ai portali. Inizialmente invece erano tutti sullo stesso livello, come una sorta di fregio continuo, quindi anche in questo caso un rimaneggiamento che in qualche modo distoglie l'attenzione da come l'edificio doveva essere pensato inizialmente. Abbiamo detto che il rosone viene aggiunto in un secondo tempo, come in un secondo tempo vengono aggiunte le torrette che vedete sul coronamento e la copertura del tetto, diciamo così, del campanile. Un edificio quindi che ha tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato, diciamo la galleria, il loggiato, l'opulo, cioè il rosone, questa facciata doppio spiovente, i portali con protilo a doppia edicola, portali leggermente strombati, una fortissima decorazione plastica, archetti pensili che suddividono diciamo in qualche modo il piano basso dal piano alto, quindi diciamo fanno da coronamento in qualche modo a queste archeggiature lombarde basse e sopra a queste grandi trifore che compongono la galleria, le forti sporgenze, cioè le paraste e le lesene che sporgono appunto in facciata e poi se vediamo, per esempio, ci giriamo intorno e vediamo che ci sono una serie di altri elementi ancora tipici dell'architettura romanica anche proprio lungo tutto il corpo di fabbrica. Se guardiamo in particolare la pianta, ci rendiamo conto che si tratta di un edificio privo di cupola, una pianta tricora, cioè che ha tre absidi terminali e che appunto si mantiene questo rapporto uno a due tra le dimensioni della navata centrale e le navate laterali. Nella parte presbiteriale si alza uno spazio diciamo sorretto da archi a tutto sesto, da grandi archeggiature a tutto sesto, che indicano nel piano diciamo basso la cripta e nel piano più alto appunto il presbiterio, come era tipico, appunto abbiamo già visto un'altra delle caratteristiche tipiche di questa divisione su tre livelli, il piano di calpestio diciamo della parte riservata ai fedeli, una sorta di parte seminterrata che è la cripta e una parte alta invece che è appunto il presbiterio. Se andiamo a vedere intorno a questo edificio ci rendiamo conto che questa sorta di galleria, questo loggiato continua intorno a tutto lo svolgimento, a tutto l'andamento di questo complesso anche piuttosto variato, come vediamo che ci sono tanti portali laterali, portali laterali che si caratterizzano tutti per la presenza di questi protiri con leoni stilofori e tutti protiri con archivolti a tutto sesto e con doppia edicola. Forse la parte più interessante è proprio l'interno, vedete che oggi l'interno presenta una copertura in mattoni, quindi una copertura con volte a crociera, come vi dicevo, aggiunte nel 400 che ci fanno pensare appunto probabilmente a un esaurirsi delle risorse a disposizione di Lanfranco. Altro elemento che ci fa pensare a questo esaurimento delle risorse è il matroneo, perché il matroneo non è un matroneo vero e proprio, ma un falso matroneo. Vedete che ci sono le trifore che si affacciano sulla navata centrale, ma la galleria non è percorribile, cioè è sfondata. Le trifore sono poste quasi solo per bellezza, come se fosse un elemento solo estetico. Immaginiamo che inizialmente Lanfranco avesse immaginato una pavimentazione, diciamo così, un piano di calpestio che rendesse fruibili queste due gallerie laterali, questo matroneo, magari in legno, ma che poi appunto non sia stato realizzato e quindi abbiamo appunto un falso matroneo. Le trifore è come se ci fosse una galleria vera e propria, ma poi la galleria invece non esiste. Vedete in queste due immagini anche la parte appunto seminterrata e la parte rialzata, quindi il presbiterio, la parte diciamo dedicata alla messa che è più in alto e sotto la cripta, dalla quale sporge tra l'altro, ci sono questi grandi, questi forti leoni stilofori che reggono questa grande balaustra che sporge rispetto alla parte presbiteriale dove appunto c'è la possibilità di montare questi amboni dai quali si sporge il sacerdote appunto per predicare. Quindi vedete che la struttura è una struttura anche abbastanza complessa. Le caratteristiche fondamentali, diciamo così, dell'architettura romanica, qui le troviamo tutte, una muratura molto pesante, una luce molto flebile, considerate che questa chiesa ha un suo cleristorio ma le finestre sono così piccole e così, diciamo, arretrate rispetto alla navata centrale da far entrare veramente pochissima luce, questo gusto per la decorazione di croma, questo alternarsi soprattutto nella pavimentazione del marmo bianco e del rosso, questa ricerca comunque di alternanza di colori, la pietra bianca appunto e il mattone, il laterizio rosso, tutte caratteristiche appunto che torneranno in generale nell'architettura romanica. Nella prossima lezione ci occuperemo del romanico in area toscana in particolare e anche in area laziale e vedremo che, anche se con interpretazioni completamente diverse, alcuni degli elementi che abbiamo trovato sia in area lombarda che in area emiliana torneranno. Che vuol dire con interpretazioni diverse? Noi abbiamo detto che l'area lombarda e l'area emiliana si caratterizzano per una vicinanza molto forte con il romanico per esempio francese e comunque transalpino, francese e tedesco, perché sono le zone più vicine e diciamo il punto di contatto della via francesena e delle strade di pellegrinaggio rispetto appunto al nord. Scendendo in Toscana troviamo comunque degli elementi di caratteristiche tratte dall'architettura, dalla cultura transalpina, ma troviamo più elementi invece collegati al mondo classico, al mondo tardo-antico e quindi diciamo una rilettura dell'architettura che all'epoca pensavano architettura romana, che noi abbiamo detto in realtà essere un'architettura assolutamente attardata, quella paleocristiana, ma nel Medioevo si considerava romano anche tutto ciò che era diciamo molto tardo nella Romanità, quindi tutta l'architettura paleocristiana tardo-antica veniva considerata romana. Ecco, troveremo caratteristiche, legami con questa forma di architettura proprio nell'architettura romanica fiorentina in particolare e pisana, che analizzeremo nella prossima lezione. Grazie. Grazie